Risparmiare energia si può. A dimostrarlo l'iniziativa Mi Illumino di Meno, lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar e Rai Radio 2, per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere per un giorno tutte le luci che non sono indispensabili, per fare del bene al pianeta e ai suoi abitanti. E così si è istituita la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che quest'anno sarà venerdì 1 marzo, e tra le tante città italiane, pronta a festeggiarla spegnendo l'illuminazione di monumenti, piazze, vie e palazzi simbolo della città, c'è anche quest'anno Gubbio. Il tutto grazie all'impegno dell'Associazione Menti Indipendenti, che ha scelto di dedicare all'iniziativa un'intera settimana, stilando un programma ricco di appuntamenti, reso possibile dalla collaborazione con il Comune e tante realtà del territorio. Quest'anno per l'illuminazione di meno abbiamo organizzato quattro iniziative. Da lunedì a venerdì, durante le mattinate, siamo nelle scuole di tutto il Comune di Gubbio, scuole di primo grado, con un gioco alla tavola, spegni lo spreco, che è un gioco da tavolo che è stato creato da nostri soci. In questo gioco i bambini devono cooperare, girando per la casa, che è la plancia di gioco, per ridurre gli sprechi. Tra le altre iniziative siamo anche nella ludoteca comunale, con un laboratorio di riutilizzo delle materie prime, dato il tema di quest'anno di Milo Milo di Meno, che è appunto il riutilizzo dell'economia circolare, in cui i bambini creeranno dei animaletti, diciamo, partendo dai rifiuti plastici. Venerdì sera saremo al Magli di Rò, pub, in Via Cairoli, con una serata con aperitivo, cena e musica in acustico. Concluderemo l'iniziativa domenica mattina, con un'iniziativa organizzata insieme al gruppo Altra Città, una passeggiata che è stata intitolata Impronte Urbane, ovvero faremo un tour guidato di Gubbio, centro e prima periferia, in cui verrà raccontata la storia di alcuni luoghi di Gubbio e come potrebbero essere riutilizzati, spunti partendo anche da delle tessi di laurea di nostri concittadini. Tra laboratori di riciclo creativo, aperitivi biologici a chilometro zero, concerti e nuove prospettive per la città di Pietra, tra gli obiettivi principe c'è quello di raggiungere le coscienze dei bambini, coinvolti grazie alla disponibilità delle scuole di primo grado del territorio e della ludoteca comunale. Noi tutti gli anni, da qualche anno, da due o tre anni, abbiamo fatto sempre iniziative di sensibilizzazione con i bambini. Quest'anno è proprio un laboratorio qui in ludoteca e siamo molto contenti di fare questa cosa perché tra le nostre finalità è sia quella di fare attività con i bambini a scopo educativo e di risparmio energetico e di recupero dei materiali, ma soprattutto è anche quella ludoteca nel territorio, lavora molto con le associazioni, quindi menti indipendenti come anche Alchimia, come tantissime altre associazioni, molto spesso vengono qui da noi, noi siamo molto lieti di ospitarli. Imparare facendo, quindi, con creatività e manualità, con lo scopo non solo di contribuire alla crescita di bambini e ragazzi, ma di divenire forma di arricchimento per tutta la città. Appuntamento, dunque, a giovedì, dalle 19.30 in poi al Miley di Ropab e domenica 3 marzo, alle ore 10, al parcheggio del seminario per partire alla scoperta di un viaggio nella gubbia da riutilizzare.